Allora, Francesca Tuzzolino, sono brevissimo a leggere, è molto facile. Queste sono le tue opere? Sì. Che cosa rappresentano? Sono semplicemente delle wedding cake, torte adatte a occasioni in genere di matrimoni. Questa è la tua specialità, oppure? È quello che mi piace di più, però faccio anche torte per bambini, quindi con personaggi cartoni animali. Da quanti anni fai questo lavoro? Praticamente da tre anni e mezzo, quattro anni. E siamo a questo? Sì, sì. Eri brava di tuo, voglio dire. C'è chi parte con una certa manualità, certo quattro anni fa non facevo questo genere, i lavori. Però il talento c'è, insomma. Sì, però sicuramente avevo una manualità che col tempo è migliore. Dove vivi? A Favara. A Favara. E il tuo successo, fin dove arriva? Dove ti sposti, cammini, fai corsi, che fai? I corsi, finora ne ho fatto semplicemente uno, perché preferisco più lavorare, creare la soddisfazione personale nel creare un'opera, che dà pure soddisfazione di riuscire a trasmettere quello che si sa fare. È sempre una cosa carina, però magari mi dà più soddisfazione lavorare su un'opera e basta. Poi di recente non ho partecipato a concorsi, perché mi hanno qua invitata in zona a partecipare come giuria, però tre anni fa sono stata a Massacarrara, agli internazionali d'Italia, e ho vinto la medaglia d'argento, la più alta della categoria. Mi pare fantastico, questo ti ha spinto a immaginare di fare ancora concorsi a livello nazionale? Beh, però i concorsi sono molto onerosi, richiedono il fatto di spostarsi, stare fuori, richiedono... Non puoi andare né in treno né in aereo, beh? Anche se ti sposti in treno o in aereo, però già il fatto di doversi spostarsi... Come la porti? Io ho studiato sette camicie per trasportare il mio pezzo, però ce l'ho fatta. Non ho dormito, niente. Complimenti per il lavoro, auguri per questa giornata, bravissima.